Musica Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova puntata dalla Uliscraft Allora qui sicuramente ci sarà un sacco di fuel ovviamente ogni volta che fare così fin quando non mi deciderò a smontarlo Cioè in realtà non devo manco smontarlo devo specialmente mettere un altro di questo reactor ragazzi che mi fa uscire la roba invece di farla entrare E ovviamente non trovo mai il tempo di farlo probabilmente lo farò in questa puntata se almeno risolviamo la faccenda in modo molto serio Ma oggi faremo altro prima di fare quella roba infatti dovremo andare a craftare un... Allora vediamoci facciamoci questo che ci servirà nel prossimo futuro ovvero una slime e un bringing Una bringing dovrebbe essere giusto? Sì? No è un bing E... è un bingening Ok che serve per far diventare più grandi le nostre piccole amiche I nostri piccoli slime Questa siringa serve per far diventare più grandi gli slime Quando ci ridichiamo sopra Ovviamente quando mi sono abituato una siringa E ce l'abbiamo questa perfetto Ok E poi si crafta in questo modo Due slime, lapis d'azzo, di solito roba insomma Perfetto questa ce la teniamo perché ci servirà Adesso bisogna farsi anche la slouter house Slouter house Eccola qua Che serve per killare i mob Vedete tipo... Ah ok questo... Vabbè ci c'è poca roba ok E si crafta in questo semplice modo Ci servirà una factory E queste si fanno Poi tre spade in gold Il gold ce l'abbiamo non è un problema Uno, due e tre E poi due di golden axe Ok E fin qui ci siamo Senza particolari problematiche Mi sono ricordato di stare a registrare in 720 Poi avevo switchato in 1080p Sono ragazzi Ma dopo ci sono... C'è chiasso a casa mia perché In verità c'è sempre chiasso a casa mia Oddio perché Non arriva l'ossigio Scusami Ah... Perché 2,8? Come va? Non arriva? Oddio aspetta Non dimmi che è finito tutto No Perché non arriva io nel lorum ragazzi? C'è successo? Ehm... Beh? Dovrebbe arrivare raga Ehm... No no che eject Eject waste Ok Perché non arriva? Scusatemi C'è successo al nostro piccolo amichetto qua? Non... Sta arrivando Ho qualche problema con l'aplia sinceramente Che mi sta dando un po' di problemi seri Speramente che non siano Ehm... Comprensivi di qualcosa che ho fatto Perché in realtà Io non è che abbia fatto chissà quale gran cose Ma vabbè Poi lo scopriremo Dai non è un problema Adesso almeno sta funzionando E dovrebbe non avere problemi Nemmeno i nostri due piccoli cose Perfetto va bene Allora andiamo verso casa Che vi faccio vedere che cosa mi serve Verso casa entrando verso la terra Allora ho preso una mucca Perché gli altri sono morti Non credetemi Perché forse lui ci sei io Può darsi E eh... Queste ultime mi servono Per una piccola cosa ragazzi Prima di tutto Vediamo un attimo qua Stava lo stesso problema di quell'altra carta Eh... Sì sembra... Ho detto ragazzi Da questo problema Non so perché forse sta laggando Dovrebbe avviare il server Mi sa eh Potrebbe essere un'ottima idea Allora devo fare Ehm... Crescere quelle due mucche Mi serve del wit Prima di tutto Perché è importante il wit Ma a parte questo Mi servono le grow Ehm... Siringhe Le silinghe della crescita Le growth Ok sì Una silinghe che si vanno in questo modo In modo davvero semplice Devo dire eh Ok mi serviranno Un po' di pezzetti di gold Vediamo un po' Tipo 32 Perfetto Li faccio diventare tutti così Opla E facciamo in questo semplice modo Ok Bam Abbiamo 36 carote Va benissimo Allora dovrei avere Un po' di silinghe Ma al massimo di craft Non è un problema Ok Vediamo un po' Non riusciamo a fare nulla Perché non ho le plastic Che cacca Ok 44 Vai craft me ne Bam Ah una alla volta me ne fa Ah è vero Queste non sono staccabili Vabbè Ok comunque Le silinghe mi servono Ne abbiamo 9 E maledizione a me che io Che ho messo Sta vibrazione Vedete che la levo Ehm... Ok Levata la vibrazione Perfetto E dobbiamo farci Queste silinghe Della crescita Ragazzi Si faranno in questo modo Perfetto Cosa bisogna fare adesso Bisogna darete mangi A nostre piccole mucche Che sono pronte Per essere macinate Fra poco Cioè tipo Diamone un po' di tempo Si accoppieranno In modo molto bello E quando uscirà Una piccola mucchetta Ne faremo grow Ok La ferma Bam Ok Guardate Vedete Cresciuta Perfetto Adesso va dato il mangime Ancora ovviamente Mi servirà per aspettare Perché le nostre piccole amiche Non si riproducono In modo così veloce Quanto pensate Quindi tipo Bisogna dargli un po' di tempo Vabbè Nel frattempo Faccio passare la roba E magari Metto anche Riavvio un attimo il servo Nel frattempo Ok ragazzi Come pensavo Un riavvio serve tantissimo Infatti adesso Vi faccio vedere Funzionato da perfezione Quindi ok Era semplicemente Un problema Di fondo Legato al fatto che Probabilmente Si è tipo bloccato Il backup Presumo E quindi stavo un po' laggando Ovviamente Per far crescere la roba Più velocemente Nel senso che io Stia qui insomma Ho messo Una feed station Che magari qualcuno Si ricorda dai primi episodi Che serve per Tipo far crescere Velocemente le mucche Nel senso che Loro copuleranno Utilizzando il grano Che c'è qui dentro In modo molto bello E molto utile Solo che per adesso Ne abbiamo ancora due Di piccole amichette Sicuramente non so Quante me ne servono In realtà me ne servono Almeno Boh bella domanda Un bel po' me ne servono Quindi facciamo crescere Un paio di queste mucchette E ci vediamo appena Sono cresciute In modo figo Si Tipo fra poco Tanto poco Forse non lo so Mentre sono a ricerca di mucche Volevo provare Una cosa abbastanza carina Che qualcuno mi ha scritto Nei commenti Qualcuno Che poi carina Nel senso Qualcosa di intelligente Ovviamente Che è Ulisse Ma non pensi Che la mod Che stia usando Ovvero la La cosa qui ragazzi Magical Club Si è un po' cittona In realtà Si lo è Perché crea Di minerali Dal nulla Ed è proprio per questo Che io Come Forse non avrei notato Allora Mi ricordo il nick Di colui che mi ha commentato Però sorry Cioè penso che Se guardi i miei video Capisci che sei stato tu Insomma Perché mi hai commentato E tipo mi hai commentato Adesso Mentre sto ancora registrando Quanto odio Sta cosa che si accende da sola Che Io non sto usando La Magical Club Per fare gli armi E anche se facessi L'armatura In realtà non la userei Perché comunque Ho la mia Flux Infused Che fa la stessa cosa Senza problemi E ovviamente Abbiamo sempre il nostro Angel Ring Questa cosa Non è usare delle robe Powa Perché in realtà Sono robe di endgame E noi siamo In realtà Nell'endgame Solo che Voglio mostrarvi tutte le mod Che ho inserito nel modpack Perché ovviamente Se non vi mostro una mod Che senso Inserirla Quindi non preoccupatevi Se uso dei mod cittone Come la Project T O come la Magical Club Che in realtà Al momento Non le sto usando Perché ha i minerali Ma Muzzo Come avete visto I diamanti che abbiamo usato Per Che ho preso Da Project T O comunque Tutte le altre cose Che abbiamo craftato Le abbiamo usate Perché ha energia Che in realtà Ci serviva per completare Ancora di più La Project T Ma non l'abbiamo usata In nessun modo Per Diciamo Givarci Rov Perché in realtà Quello si È come un give Quindi non preoccupatevi Quella roba OP Quanti Cristo di King Slime Ci sono qua Quella roba OP Non la sto usando Per Diciamo Givarmi i minerali Perché infatti Ciò che sto facendo adesso È proprio qualcosa Che mi darà minerali in più Senza doverli Craftare da nulla Ok abbiamo un po' di mucche Potremmo già iniziare a ucciderle In realtà Devo posizionare Il nostro piccolo amico Da questa parte Dall'altra parte Ops È vero Questi macchinari funzionano così Ok Ecco vedete Sta facendo un po' di mitte Pink Slime La Pink Slime È tipo pochissimo Oddio Sto uccidando tutto Sto uccidando Ma non ho comprato manco Un piccolo pezzo di Pink Slime Quanto Quanta roba vuole che io Uccida Insomma Per prendermi un po' di Pink Slime Mi sa tanta Mi sa che questa cosa Dovremmo fare Forse off camera Perché ovviamente È un po' complicato Ok Mettiamo sta roba qui Perfetto E ovviamente sì Penso che sia abbastanza difficile Perché Manco un pezzettino Mi ha dato Raga Manco un po' Di Pink Slime C'è proprio davvero zero Magari tipo Devo uccidere tante muc Devo uccidere Ehi Tu puoi crescere di nuovo Velocemente Però Oddio Eh mi ha ucciso tutto Mi ha ucciso giustamente Cupido coso Eh no Ho perso tutto Ho perso dentro Vero Eh mi sa di sì No ok C'è dentro ancora E in realtà ragazzi Devo farmi una farm Un po' più figa E un po' più Diciamo carina E avrei anche un'idea Sinceramente Per poter fare questa cosa Mmm Facciamo in questo modo Ho un'idea Allora Craftiamoci un Cronotyper Solo che Prima di un momento Mi serve tipo Questa roba Perfetto Ce la faccio Allora Cronotyper Che era da queste parti Dove diamine è andato Eccolo qua Cronotyper Ci serve Poi ci serve il Breeder Che Esattamente Rende meglio Rispetto all'altro Perfetto E nient'altro Dovrebbe essere già tutto perfetto Allora Che dobbiamo fare ragazzi Prendiamoci un nostro Breeder E far arrivare esattamente qui La roba che ci serve Ovvero Il Wit Perché noi sappiamo che I nostri cari mucche Si Diciamo Migliorano attraverso il Wit Quindi Giustamente il contrario Ops Ok da questo lato Perfetto Opla Poi di qui Doveteci il Cronotyper Ok E devo dirgli Ehi Guarda che Devo muovere I Babies Significa che Di qui ragazzi Quando arriveranno Le mucche piccoline Verranno trasferite In questa zona E da qui Verranno uccise Dal nostro bellissimo Fantastico Amico Slaughterhouse Quindi una cosa Di abbastanza carino Voglio però fare Un'altra cosa Ovvero farmi Due servo Ok Uno e due Eccoli qua E Vabbè in realtà Non nemmeno il servo Facciamo Si facciamo direttamente Due tank Ok Due tank Uno E bottiniamo questo Va bene Spendiamo quindi anche Dei duct Fluiduct Eccoli qua A posto Che mi permetteranno Di trasferire Entrambi i liquidi Da una parte E dall'altra Infatti voglio che Due liquidi Vanno da una parte E dall'altra Allora di qui Va il nostro Meat E di qui In realtà Dovrebbe entrare Solamente Ciò che voglio io In realtà Non so se tipo Devo forza metterlo Dall'alto Probabilmente così Ok si Facciamo così Che dovrebbe essere giusto E quindi in realtà Adesso sta arrivando qua il meat Dall'altra parte dovrebbe arrivare invece Pink slime Che poi dovremmo usare Ora mi serviranno a prendere le altre due mucche Vi faccio vedere come funziona il meccanismo Allora come vedete ho messo le due mucche qui Devo prendere adesso del wheat 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 Dovrebbe esserci qua Eccolo qua Perfetto Oddio ho sbagliato Cosa ho preso Se vede wheat Ehi tu scendi Piccola amica Ah giusto Loro possono Che palle Devo metterci una cosa slab qui raga Ok Le ho riprese Le maledette Tipo sono morte entrambe Mi raccomando mettete lo slab di sopra Se no Su un cavolo amari E dovete mettere di qui Le vostre mucchette Ok Qui ho messo un po' di wheat Ok Semplicemente E questo Coso Appena finirà l'idol Inizierà a workare Vedete darà Anche la slab Anche la slab Se no scappano Ok come vedete Nostra No mucchetta di merda Ok vedete la mucchetta Adesso La trasfer Porca Vacca Ti odio Vieni qua Vieni Vieni qua Allora Chiudete qua Prima di tutto Posto Poi Mettete una E due Da questo lato Perfetto E vedete che adesso La mucca piccolina Dovrebbe passare Dall'altra parte Giusto Giusto Forse Perché non passi Bella Ti ho detto Stanto i baby Dovrebbero passare Moving babies Si moving babies Ah no Cioè moving Babies Babies Si 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 Sono quelle Avete fatto bene Vero Ah non dimmi che fosse Al contrario Ovviamente Perché ho sbagliato Vediamo un po' Se mettiamo Dall'altro lato Ok Perfetto Vedete Ha mosso La piccolina La piccolina Non dovrebbe morire Fin quando non diventa grande Perché in realtà Non crea carne Se non sbaglio Vero Vediamo un po' L'idol Dovrebbe funzionare E non dovrebbe uccidere La piccolina Ok si 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 Perfetto ragazzi Non uccide la piccolina Però quando questa diventa grande Per esempio Prendiamo Una siringa La facciamo diventare grande Questa dovrebbe morire Istantaneamente Adesso E qua Bam Ok Vediamo un po' Se muori Ok Dovresti poter morire Da un momento all'altro Sempre se tutto funziona Adeguatamente E ok Si ragazzi La piccolina non muore Però quando diventa grande Inizia a morire E finisce Qua Ah no Mi fa uscire la roba Da questa parte pure Devo fare un filtro Devo fare Quindi in realtà Qui per adesso Lascio mostrare Faccio arrivare di qui Il meat Da qua invece Arriverà la pink slime Quindi che succederà Il nostro braider Darà Wheat Alle nostre piccole mucchette Quando è possibile E loro faranno Fare i figli I figli passeranno Di qui E di qui Cresceranno Quando cresceranno Verranno maciullati Da questa piccola cosa Che ci sarà Pink slime Ma nel frattempo Anche un po' di meat Allora sta piovendo Quindi l'ago giù Un po' di più Allora due mucche Sono pochette Magari in futuro Ne potremo fare un po' di più Anzi per esempio Potremmo Le varie cronotype Per un po' Però sicuramente Per il momento Direi che va bene così Non è un grandissimo problema Così In questo modo Ci facciamo un po' di mucchette Faremo un po' di roba In off camera Ovvero di pink slime E la potremo usare Per il prossimo lavoro Che è quello Che succederà domani Quindi ragazzi Io vi saluto per questo video Noi ci vediamo Nella prossima puntata Dei Ulissecraft Vi ricordo di lasciare Un bel like Come sempre Commentare il video Sono sempre disposto A scettare i vostri commenti A commentarli Non O sotto Al video normalmente Oppure tramite il video stesso Come ho già fatto Per quel commento di prima E fatemi sapere quindi Cosa ne pensate Delle mod che tratto E si Vorreste vedere Una particolare mod In generale E la mainfettura La sto trattando davvero poco Quindi questo Questa cosa del chronotype Questa cosa del Bisogno di pink slime E utile E buona come cosa E' morta pure una chicken Ah finalmente Vogliono anche loro Che bello Che bello davvero E l'unica cosa Che potrebbe servirmi Ragazzi Che mi sono indicato di fare E prendere Deduct Prendere una cella Di energia Comunque un teser Se ce l'ho E dare energia un po' a tutto Però lo faccio adesso In off camera Non preoccupatevi Quindi Noi ci vediamo Nella prossima puntata Da Ulisse è tutto Ciao ciao ragazzi